E se abitualmente il mattino ha l'oro in bocca? In questo caso il mattino ci ha infilato 11 milioni su per il culo. Eh sì, perché l'ospedale Cardarelli di Napoli ha ricevuto una bolletta da 11 milioni di euro. Socciamo pleda, tac e bisturi senza elettricità. Come faremo? Eh, come farete? Farete come fanno tutti. D'altronde, preferite la tac o la pace? E i pippurra per l'Ucraina!